In questo modo si forma un unico orbitale comune, detto orbitale di legame, che contiene una coppia di elettroni forniti dai due atomi. La formazione della coppia di elettroni in comune è determinata dall'elettronegatività degli atomi che formano il legame. L'elettronegatività è la capacità di un atomo di trattenere su di sé gli elettroni condivisi. Dal punto di vista fisico il carattere dipolare dell'acqua consente la formazione di interazioni elettrostatiche tra le singole molecole.